Si è tenuto lunedì 22 maggio a Verona il terzo appuntamento dei Dialoghi di Spirito Artigiano, il percorso di approfondimento dedicato ai temi di attualità economica che toccano il mondo delle piccole e medie imprese. Il convegno, organizzato da Confartigianato Imprese in collaborazione con Confartigianato Veneto e Verona, ha avuto come focus il calo della natalità. Sentiamo. Negli ultimi dieci anni la popolazione italiana è diminuita di un milione e mezzo di abitanti. Il cinquantaseiesimo rapporto Censys evidenzia come la crisi demografica stia influenzando la condizione attuale dei giovani italiani. Negli ultimi vent'anni il numero di giovani di età inferiore ai 34 è diminuito di quasi 5 milioni di unità. Spirito Artigiano si interroga sulla questione numero uno a cui è appeso il nostro futuro, la transizione demografica. Le proiezioni ci dicono che di qui ai prossimi meno di 30 anni, nel 2050, avremo una riduzione di popolazione complessiva intorno ai 4,8 milioni. Una riduzione tutta concentrata nelle fasce di età giovanine, popolazione di età attiva, lavorativa, quindi con dei problemi in termini di contrazione della capacità produttiva, di sostenibilità del debito pubblico, di sostenibilità della spesa sociale, pensioni, sanità, assistenza e si interroga su una questione che riguarda lo stesso Confartigianato perché c'è il rischio che si riduca anche la base associativa, la propensione a fare impresa artigiana. Quindi qual è la soluzione? Da una parte colmare i grandi ritardi del Paese in termini di politica di sostegno alla genitorialità e di conciliazione dei tempi di lavoro e delle attività di cura delle donne. Da questo punto di vista il Paese è molto indietro, pensiamo che in termini di tasso di occupazione femminile siamo semplicemente all'ultimo posto in Europa. Ma dall'altra c'è qualcosa di più profondo, al di là delle politiche che è necessario mettere in campo, che riguarda l'immaginario collettivo. L'idea cioè che non fare figli sia diventato come dire, socialmente accettabile, il che dimostra che c'è qualcosa che si è insinuinato nell'immaginario collettivo che è una scarsa fiducia e prospettiva di futuro. E al 2021 il tasso di occupazione dei lavoratori dai 15 ai 34 anni in Italia è del 41% contro una media europea che sfiora il 57%. A differenza di ciò che abbiamo pensato per qualche anno nel passato, la crescita economica e l'acciolamento del PIL è una condizione necessaria ma non sufficiente per avere sviluppo economico. Lo sviluppo è una dimensione integrale che riguarda l'investimento nella formazione, le politiche della demografia, le politiche per la sostenibilità, la cura dell'invecchiamento. Tutte queste sono dimensioni, l'investimento nella ricerca, tutte queste sono dimensioni necessarie in una società avanzata per avere sviluppo economico al di là del PIL. Per altri contenuti video cliccate i riquadri qui a fianco e per non perdervi i nuovi contributi iscrivetevi al canale. Grazie per la visione. Grazie. Grazie.